Buongiorno, oggi la redazione dossiasalute.com si trova nel cuore di Monza e si trova in compagnia del dottor Orseniga. Dottore, il dolore è ancora oggi l'incubo maggiore per chi si recca dal dentista e siamo venuti fino a Monza per parlare di una metodica che lei applica, la sedazione cosciente, ma cos'è esattamente la sedazione cosciente? Purtroppo il dolore è ancora lo spauracchio maggiore per una certa fetta di pazienti, forse anche per un rettaggio di epoche passate quando effettivamente andare dal dentista era una brutta esperienza perché effettivamente le cure potevano essere dolorose. Oggi con il ricorso all'anestesia locale odontoiatrica di fatto le terapie possono essere affrontate con ben diversa serenità, però c'è ancora una fascia di pazientela che purtroppo vive ancora male questa esperienza. rispetto al passato che novità ha introdotto la sedazione? La sedazione cosciente è una grande risorsa oggi per noi odontoiatri soprattutto in riferimento proprio a quei pazienti che dicevamo avere ancora un approccio negativo nei confronti delle cure odontoiatriche. La sedazione cosciente è una sorta di stato di sonno lento benessere, io definisco, il che significa che il paziente si trova in uno stato privo di ansia, privo di stress, privo di paura, ma cosciente, quindi non parliamo di narcosi, parliamo di paziente vigile, in grado di collaborare, di dare tutta la collaborazione necessaria alle cure, ma rilassato. Il paziente al termine della seduta può allontanarsi dallo studio autonomamente e riprendere la propria vita normale. E in quali casi è particolarmente indicata? La sedazione cosciente è sostanzialmente applicabile sempre non avendo sostanziali controindicazioni se non ad esempio per le donne in gravidanza nei primi tre mesi della gestazione. Quindi di fatto può essere applicata quando lo si desideri, ma ovviamente per le sue peculiari caratteristiche è chiaro che esistono due categorie principali di riferimento per l'utilizzo di questa metodica che sono i pazienti adulti che hanno paura delle cure odontoiatriche e i piccoli pazienti che sono il primo approccio nei confronti del dentista e che quindi possono manifestare un legittimo disagio nei confronti di un qualcosa che è loro sconosciuto. Per concludere, ma tutti gli odontoiatri sono in grado di offrire la sedazione cosciente? La sedazione cosciente può essere somministrata in qualsiasi studio odontoiatrico privato, non è richiesta di fatto una struttura di tipo ospedaliero e può essere somministrata, può essere avvicolata in tre maniere per via inalatoria con l'erogazione di un gas che è il protossido d'azoto, per via endovenoso o per via sublinguale. La via inalatoria è sostanzialmente erogabile dall'odontoiatra in prima persona attraverso un macchinario specifico. Ritengo invece che la via endovenosa sia più di pertinenza di un anestesista perché sussiste la necessità di un controllo dei parametri vitali che richiede una persona che abbia una maggior competenza in tal senso.